Ciao, ciao a tutti, bentornati e benvenuti sul canale. Bene ragazzi, oggi una chiacchierata davvero velocissima perché con gli ultimi due video vi ho veramente fatto avere tanta pazienza, ma siccome oggi è il primo giorno in cui riesco a stare alzata e sto un pochino meglio, nel senso che a parte il raffreddore e tutta questa voce così nasale, così intasata, non ho più dolori alle ossa, non ho più mal di testa, santo brufen o probabilmente il virus se ne sta andando, comunque oggi va molto meglio e siccome sto cominciando a sistemare, insomma perché a letto non riesco più a stare, mi fa male la schiena, mi fa male dappertutto, e pian pianino mi sono alzata, mi sono un attimo sistemata e ho detto vabbè metto via gli acquisti estivi che ho in giro da quest'estate e che volevo farvi vedere prima che arrivi l'estate prossima e non esistano neanche più i prodotti. Questo è veramente un mini 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 haul di quello che ho comprato al DM di Bressanone quando sono andata quest'estate in vacanza in Val Pusteria, abbiamo davvero comprato pochissime cose, ho comprato per me alcune novità, nel senso che non sono novità che sono uscite al DM, ma che sono novità per me che non avevo mai provato, qualche riconferma e davvero poca roba, c'è stata proprio l'esperienza così carina, giocosa, divertente di andare con tutte le donne del gruppo vacanze, e le ragazze del gruppo vacanze che si sono comprate le maschere, le ragazze hanno fatto le maschere, poi alla sera si sono divertite e noi donne non abbiamo avuto l'occasione, però vabbè abbiamo, io ho comprato, loro hanno comprato, è stato divertente anche, li vieni cosa mi consigli come se io fossi chissà quale esperta e non sapevo assolutamente niente, però vabbè è stato davvero un momento divertente anche perché era una brutta giornata come oggi, che aveva a dirotto e quindi abbiamo così trovato un modo diverso per passare la giornata, ma velocissimamente appunto vi faccio vedere quelle poche cose che ho comprato così, per non uscire proprio a mani vuote. Ok, allora ho preso questo detergente per le mani, sapone per le mani, balea sapone liquido per pelli sensibili con aloe vera, e voi direte ma Eli non hai dei detergenti per le mani? Ma ce li ho, sicuramente ce li ho, però questo vabbè era l'aloe vera, mi sembrava di aver visto da qualcuno, non mi ricordo più che comunque fosse buono, lasciava le mani morbide, e siccome sto finendo gli altri due, e poi negli altri due bagni ci mettono un sacco a finire perché l'uso solo io, ho detto ma dai che proviamo queste che va in scorta come gli altri. Ah, vi faccio vedere questo scialletto da nonnina, come magari dice qualcuno, comunque a me gli scialli da nonnina piacciono molto, è uno scialle che mi ha regalato la mia amica Simo di Pensieri e Pasticci, che ha un blog di cucina, ha una pagina Facebook e anche su Instagram, poi vi metto i riferimenti sotto, siamo amiche da una vita, ci siamo conosciute tramite il blog di cucina tanti, 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 tanti anni fa, e la nostra amicizia poi si è sviluppata e cresciuta oltre alla cucina, che io adesso al momento ho abbandonato come blog e quant'altro, ma siamo diventate amiche nella vita, ci siamo incontrate qualche volta, noi soltanto, ci siamo incontrate come famiglia, sua figlia è venuta una volta a trovarmi, insomma, le amicizie che si costruiscono virtualmente, ma poi quando si capisce che si ha un feeling con qualcuno, poi proseguono davvero per tanti anni, io e la Simo siamo amiche da tantissimo, e questo regalo me l'ha fatto lei, è uno scialle che a me piacciono tantissimo, lei è molto brava a lavorare all'uncinetto, vi consiglio di andare a vedere la sua pagina Instagram, i suoi lavori li mette un po' dappertutto, è davvero molto brava, ha riscoperto un po' questa passione, e mi ha regalato questo scialle, tra l'altro caldissimo in questi giorni, in cui veramente le temperature sono così precipitate, c'è molto umido e non si può accendere il riscaldamento, comunque anche la stufa mi sembra un po' esagerato, questo scialle mi tiene tantissimo caldo, poi mi ha regalato anche una mantella, che per i tempi duri di questo inverno al lavoro, poi ve la farò vedere, bellissima, vabbè, ritorniamo a noi, e io devo sempre cicciarare con cose che c'entrano e non c'entrano, e poi anche se il video deve durare 10 minuti, mi dura mezz'ora, comunque vi ho detto questo sapone mani, che mi intrigava, sapone delicato, un altro sapone mani, e questo l'ho preso soltanto ed esclusivamente per la confezione, perché è troppo bello, e poi vabbè, comunque lo userò, ma è veramente bellissimo, richiama l'estate, l'azzurro del mare, le conchiglie, è stupendo, niente, solo questi due saponi, poi ho comprato questi due bagno gel, doccia gel, crema gel, questo al cocco e vaniglia, e questo alla, menta e cocco, no, cetriolo, cetriolo, c'è il cetriolo, cetriolo e cocco e menta, forse questo l'ho anche già preso, o anche questo, ma non lo so, comunque poi a me mi spariscono, perché qualcuno passa, li prende, io non li trovo, e quindi questi li ho ricomprati, perché mi piaceva la profumazione, anche se è molto estiva, li useremo l'anno prossimo, poi ho preso, come certezze che compro e ricompro, da quando li ho scoperte, grazie a Elisabetta R, due shampoo, questi che sono per l'antigiallo, per i capelli decolorati, e mi trovo veramente benissimo, anche con questo grigio, adesso lo sto usando e mi piace, purtroppo era finito tutto il resto, quindi siccome mi trovo molto bene, anche con il balsamo, e con le maschere per i capelli, però lì non c'era più, si vede che tutte le donne, di una certa età, con i capelli grigi decolorati, erano andati a far scorta, poi ho preso questi, i cotonfioc, mi piacciono questi qui, perché sono nella scatola di cartone, che posso utilizzare e riciclare, quando poi questi finiscono, io ci metto dentro quegli altri, l'ultima scatola di cartone, mi stiera rotta, e quindi l'ho ricomprata, e dopo per ultimo, vi faccio vedere un po' le novità, che ho preso, poi queste ovviamente, le maschere potevo non comprarle, no, queste due mascherine, maschera viso idratante in tessuto, con estratto di alghe, e acido ialuronico, questa e questa, come vi ho detto tante volte, le maschere di balea, mi piacciono, perché sono ben intrise di siero, e mi fanno bene, mi piacciono sulla pelle, però ritengo che siano anche un po' piccoline, e poi hanno questo tessuto, che non è proprio veramente bellissimo, però va bene, e poi ho comprato, queste due, che hanno, come vedete qui, la figura della pecorina, la faccetta della pecorina, quindi vabbè, sarà anche veramente molto ridicola, mi sono accorta dopo di questa cosa, cioè io l'ho visto, il pack così carino, così bello, con questo agnellino, e poi mi sono accorta che aveva comunque la faccia dell'animaletto, quando la mettete, quindi questa non l'ho mai fatta, vediamo, maschera viso idratante in tessuto, con acido ialuronico, ed estratto di fiori di ciliegio, un pezzo, vediamo come saranno, poi anche queste due, che per me poi diventano quattro per pezzo, perché io li divido a metà, perché sono tante, maschera viso nutriente, con olio di cocco, ed estratto di frutto di drago, ecco, io queste qui in crema della Balea, mi piacciono davvero tantissimo, sono sempre molto buone, lasciano la pelle morbida, a volte levigata, a volte luminosa, dipende dagli estratti che ci sono, però davvero mi piacciono, mi piacciono tantissimo, sono proprio buone, e poi c'erano in offerta, non so come mai, queste, le solite della Garnier, quindi l'Hydra Bomb, maschera in tessuto, super idratante e opacizzante, poi c'era la, sempre l'Hydra Bomb, super idratante e rivitalizzante, acido ialuronico e aloe vera biologica, mi sembra che mi sia andata indietro la vista ancora di più, e questa, che è la Skin Active, pure carcol, maschera in tessuto, con acido ialuronico tenero, e, LHA, e estratto di tenero, per un'azione antilucidica, ecco questa non l'ho mai provata, non l'ho mai provata, e quando la trovo, dal Tigotana, costa sempre parecchio, quindi non l'ho mai presa, questa era scontata, e ho voluto provarlo, poi, cosa ho preso di nuovo, queste due, perché non potevo, davvero, lasciarle lì, perché sono troppo carine, e poi se c'è da fare qualche regalino veloce a qualche amica, queste sono troppo belle, io una la tengo sempre in borsetta, l'ho quasi finita, quando le trovo, queste le compro, le compro sempre, questi patch occhi, che vi ho detto l'altra volta, che ho usato, sono buonissimi, sono molto ricchi di sero, sono in una loro confezione di protezione all'interno, dove li potete riporre, anche se non si dovrebbero usare, però io l'ho fatto, non fatelo, ma io l'ho fatto, c'era talmente tanto sero, che li ho rimessi nella loro posizione, il giorno dopo li ho usati con il sero che c'era dentro, non è successo niente, non mi sono caduti gli occhi, ed è perfetto così, magari, non è che si può fare, per 10 volte di seguito, anche perché penso comunque, che i patch in idrogel, a un certo punto si secchino, però se è da un giorno all'altro, che vi avanza il siero, perché no, proviamo, cioè io ho provato, e non mi è successo niente, questi sono davvero molto molto buoni, e adesso veniamo alle novità, che sono cose che io non ho mai provato, e che secondo me sono novità, vabbè, c'erano ovviamente queste, lo sapete che quando io trovo, l'acqua spray rinfrescante, che è sempre della linea all'acqua, quella delle mascherine, ne ho prese due, perché io di queste ne consumo davvero tantissimo, mi pro del naso, scusate, ne consumo sempre tante, e ne ho prese due in scorta, ma queste a me vanno via, vanno via come il pane, è come la schiuma depilatoria, che usa la Lucia, insomma, vabbè, sarò un po' giallina come colore, non è la mia faccia da covid, ma è che piove fuori bruttissimo, e non so come illuminare, poi ho preso, i patch occhi, e qui non vedo nessuna descrizione in italiano, quindi me la devo inventare, no vabbè, patch antirughe per occhi, 6 per 2 pezzi, al Q10, non è vero c'era la cosa in italiano, con effetto rivitalizzante idratante, attenano le rughe di espressione, e questi ho voluto provarli, vediamo come sono all'interno, non li ho neancora, ecco, sono proprio nelle bustine, così, ma devono essere anche davvero molto sottili, perché sono proprio, molto molto sottili, sono, quante confezioni, vi ho detto, mamma mia, non vi ricordo, 6, ho detto, eh sì, 6 confezioni, per 2, quindi, vediamo, questi non li ho mai provati, poi vi saprò dire, come mi sono trovata, poi, ho preso, Balea, crema notte, antirughe, al Q10, con complessi omega, e vitamina E, 50 ml, rassode, rinforza la pelle, la provitamina B5, dona idratazione intensa, applicare la sera, prima, dopo la detersione, prima di andare, vediamo, io non l'ho aperta, e non l'apro, perché se no mi parte il paolo, perché ho due, due creme che sto finendo, mi piace, ha un colorino jalin, giallo banana, anche se non penso profumi di banana, sto usando una crema, alla banana di essence, che è favolosa, e, questa è la confezione, questa non l'ho provata, mi pare che l'avesse comprata, anche, una, delle mie compagnie di vacanza, e mi avesse detto, che comunque, l'aveva già messa, e si stesse trovando bene, poi, ho preso invece, anche la crema giorno, antirughe, con complesso omega, e, fattore di protezione 15, comunque, non è, non è chissà che, però, magari 15, nelle giornate d'inverno, brutte, senza sole, può andar bene, questa rinforza a rassoda, previene l'invecchiamento precoce, della pelle, con vitamina E, e anche questa, così, è sempre dello stesso colore, di quella là, i vasettini sono in vetro, e, le proveremo, le proveremo, le proveremo, poi, ho preso, perché non avevo dei sieri, ma poi, devo farvi vedere, quello che ho comprato, da Kigota, adesso, appena sto meglio, adesso, questo era proprio, per passare un po' il tempo con voi, perché, comunque, sono qui da sola, in casa, quindi, questo è un siero, sempre al Q10, ho voluto prendere un po', quella linea lì, vediamo, se ci dice qualche cosa, sicuramente c'è, Q10, è siero, antirughe, formula, altamente concentrata, con complessi, omega, vitamina C, e vitamina E, 30 ml, rassoda e rinforza, rendendo la pelle liscia, allora, io ho sentito parlare, bene, di questi, della crema, sono sicura, non mi ricordo, se l'aveva provata, la mia amica, Antonella, di fare, di fare, comunque, i ricordi che ho, di alcune recensioni, e che sono buoni, io, francamente, con i prodotti di Balea, non mi sono mai, trovata male, mai, tranne che con un, prodotto al verde, ma l'anno scorso, che era una delle prime cose, che provavo, e quindi, per il costo che hanno, secondo me, e anche per l'inci, che hanno, il rapporto qualità-prezzo, è davvero ottimo, e danno la possibilità, anche a chi non ha, davvero tanti soldi, da spendere, o non vuole spenderli, di poter fare, comunque, una skin care, una routine skin care, di tutto riguardo, con dei prodotti, veramente ottimi, questa è la mia, umile impressione, la mia umile opinione, adesso qua, è scritto, bianco su blu, e io, non vedo niente, questo invece, è il siro, della, per me nuova linea, sempre all'acqua, della mascherina, della, della, vedete, della stessa, dell'acqua idratante, per il viso, vediamo se riesco a trovare, quello che è in italiano, no, no, qua, allora, acqua siero idratante, con acido ialuronico, per pelli secche, modo d'uso, applicare la mattina, la sera, allora, lo so che per pelli secche, la mia, non è assolutamente una pelle secca, ma io, l'ho preso, da usare alla sera, visto che c'è l'acido ialuronico, per così, integrare, quando finirò l'altro, perché comunque, la mia pelle, anche se è grassa e mista, mi sono accorta che, davvero, ho molto bisogno di idratazione, e quando viene idratata, si beve tutto quel, che ha sopra, quindi, di giorno no, perché magari mi farebbe lucidare la pelle, sarebbe un po' troppo, ma alla sera, sicuramente, soprattutto adesso che arriva l'inverno, ma si può che ho questo pizzichio del naso, mamma mia, vabbè, e vabbè, nulla, questo è, sembra una pazza, vabbè, mi prude il naso, tra il covid, cosa vi devo dire, quindi questo, ve l'ho fatto vedere, la crema notte, ve l'ho fatto vedere, ragazzi, ho finito, cioè, ho finito, ah, ecco, poi, ho proprio due prodotti in make up, ma due, 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 costavano pochissimo, non mi ricordo, se al di sotto, forse dei due euro, erano in un, mi pare, in un cestone, che c'era lì, e l'ho presa perché scrivono veramente benissimo, vediamo, ve lo faccio vedere di qua, sì, allora, sono le creme della Catrice, se non ricordo male, sì, 20 ore, ultra precisione, gel, ice, pencil, e l'ho presa nera, così, vedete, guardate come scrivono benissimo, tra l'altro, e l'ho presa blu, eccoli lì, ebbene, anche se non sono, mh, stata molto pimpante, come tono di voce, perché vabbè, sono ancora un po' così, così, io domani mattina, devo andare a fare il tampone, per vedere se, eh, tutto è passato, mh, me lo auguro di cuore, e anche perché, appunto, stare in casa così una settimana, è anche abbastanza, mh, organizzativamente, incasinato, anche se, abbiamo una casa grazia, anche se possiamo, stare su piani diversi, però insomma, chi va da mangiare sono io, e se non lo faccio io, che i primi giorni non stavo bene, se mangia, mh, alle nove di sera, e cose così, quindi, vabbè, ognuno ovviamente ha, eh, le sue cose da fare durante la giornata, e, io preferirei star bene, per poter essere, eh, presente nella mia casa, e per poter fare le cose che devo fare, che voglio, ma, non è una cosa che scegliamo noi, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, eh, di tutti i commenti, che mi avete messo, sugli ultimi due video, avrei voluto fare quello dei profumi, ma ho provato, e, spero sia colpa solo del covid, e che finisca, in tempo relativamente breve, ma, eh, con questo raffreddore, non sento assolutamente niente, quindi, non avrei potuto descrivervi, appassionatamente, eh, gli altri profumi, eh, estivi, che comunque io sto ancora, tranquillamente, usando, eh, quindi, sicuramente ci sarà un seguito, ci saranno più video, perché ho comprato anche, eh, alcuni profumi che usavo, quando avevo 18 anni, li ho ricomprati per vedere se le sensazioni, se le emozioni che mi davano erano le stesse, e quindi vi vorrei anche raccontare un po' questa cosa, ma adesso vi lascio andare, perché era, era corto, adesso non è più corto, vi saluto, vi abbraccio, vi auguro un buon weekend, noi ci rivediamo presto, speriamo, con tante belle novità, e, sì, ci tante belle novità, ho ricominciato a lavorare a maglia, ho ricominciato a lavorare all'uncinetto, e io adesso vi saluto, perché sennò qua non finisco più, grazie della compagnia, ci vediamo, buona giornata, ciao!